La Svizzera ha un sistema sanitario eccellente. Tutti hanno accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Nel nostro paese migliaia di persone si impegnano ogni giorno a questo scopo. Infermieri, medici, terapeuti e ricercatori. Per avere un buon sistema sanitario anche in futuro, dobbiamo lavorare insieme per continuare a svilupparlo. L'UFSP, ovvero l'Ufficio federale della sanità pubblica, elabora basi e misure concrete a questo scopo, basate sulla strategia del Consiglio federale Sanità 2030. Al momento sono cinque i temi prioritari. La trasformazione digitale, il contenimento dei costi, il rafforzamento della preparazione alle emergenze alla luce della pandemia di coronavirus, l'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche, nonché la qualità e la sicurezza nell'assistenza sanitaria. Gli specialisti dell'UFSP forniscono una panoramica dei temi attuali. Antibioticaresistenze sono un problema, weltweit e anche in der Schweiz. Wir wirken der Entwicklung entgegen, indem wir Fachpersonen und Bevölkerung für den umsichtigen Antibiotika-Einsatz sensibilisieren. Unser Lebensstil beeinflusst unsere Gesundheit. Wenn wir uns viel bewegen, ausgewogen ernähren und nicht rauchen, können wir länger gesund bleiben. Wir sensibilisieren Jung und Alt, sodass wir in der Gesundheit mehr Sorge tragen können. Per una terapia efficace servono le informazioni sanitarie giuste al posto giusto. Noi realizziamo le premesse, affinché ciò sia possibile. Infatti nella cartella informatizzata del paziente i dati sono archiviati digitalmente e accessibili molto velocemente. In der Schweiz haben alle Menschen Zugang zu einer guten medizinischen Behandlung. Wir setzen uns dafür ein, dass das so bleibt und finanzierbar ist. Wir genehmigen zum Beispiel Prämien, Reglitarifen, übernehmen Versicherungsaufsicht und sorgen für Qualitätssicherung in der Krankenversicherung. Affrontiamo le sfide e sviluppiamo le opportunità nei settori della Biomedicina, delle Radiazioni e dei Prodotti Chimici. Approviamo e controlliamo i dispositivi RGX, analizziamo i rischi dei Prodotti Chimici e valutiamo i progressi della Biomedicina e della Medicina d'Avanguardia. Der Fachkraftmangel beim Pflegepersonal hat sich in den letzten Jahren verschärft. Darum haben Bund und Kantone eine Ausbildungsoffensive lanciert, um mehr Pflegende auszubilden. Die Covid hat uns gezeigt, dass die Virus keine Grenzen gibt. Das ist für das, dass eine internationalen Zusammenarbeit efficazie und notwendig ist. In diesem Bereich, wir uns engagieren, um die Interesse der Schweiz an den internationalen Interessen zu representieren. L'UFSP fa parte del Dipartimento federale dell'Interno, realizza la politica sanitaria svizzera e attua le decisioni politiche del popolo, del Parlamento e del Consiglio federale. A tal fine collabora strettamente con i cantoni e con i professionisti della salute di diversi ambiti. Con i suoi compiti, l'Ufficio federale è vicino alla popolazione e alla politica. Sono gli elettori, infatti, a prendere spesso decisioni su importanti progetti in materia di sanità. Anne Levy è la direttrice dell'UFSP. Grazie a tutti.